Nella folla in cammino verso il luogo del supplizio ti apristi un varco a un tratto o te l'aprivi dall'inizio e da quando? Dimmelo tu Veronica, nacque il tuo nome da ciò che fissavi. Il nome di ognuno di noi indica che cosa ognuno di noi è rispetto al suo destino grande, tant'è vero che il nome viene sempre dato, uno il nome se lo ritrova perché qualcuno glielo ha dato e qualcuno glielo ha dato come ricollegandolo, rinviandolo al suo grande destino. E nei versi della poesia del Santo Padre, Carol Voitila, il titolo dell'edizione numero 40 del Meeting. L'io e la realtà si fanno mutuamente, si dice così in italiano, mutuamente bisogno una delle altre, l'io, l'identità della realtà e la realtà non può essere se stessa senza l'io. Questo è il miracolo della nascita, questo è perché noi abbiamo nostalgia della nascita. E Papa Francesco nel suo messaggio ricorda, in un'epoca dove le persone sono spesso senza volto, figure anonime perché non hanno nessuno su cui posare gli occhi, la poesia di San Giovanni Paolo II ci ricorda che noi esistiamo in quanto siamo in relazione.